in questo video parleremo di bioarchitettura di tutto ciò che ruota intorno al mondo della bioarchitettura quindi vi spiegherò in parole semplici che cos'è di cosa si tratta questo è il mio canale se l'argomento di tuo interesse e se sei interessato ai temi dell'ambiente dell'architettura sostenibile iscriviti pure metti un mi piace e attiva la la campanella mi presento sono francesco de gaetano sono un bioarchitetto bioabitare è il mio studio di consulenza di progettazione di ristrutturazione in chiave appunto bio edile iniziamo subito cliccando il tasto numero 1 e dopo il numero 1 vi do un altro numero che 22 22 sono le ore che trascorriamo nell'arco di una giornata quindi nell'arco di 24 ore in un ambiente chiuso questo significa cosa che il 90 per cento della della nostra esistenza lo trascorriamo all'interno di ambienti chiusi quindi immaginate quanto sia fondamentale quanto sia importante per la nostra salute la qualità dell'involucro che ci contiene durante l'arco della nostra vita si parla ovviamente principalmente dell'abitazione però anche del del luogo di lavoro quindi se pensiamo che ogni giorno usciamo di casa per andare a chiuderci nel nostro ufficio per allenarci in palestra e per andare per spostarci usiamo il mezzo di trasporto che se non è la bicicletta è appunto un mezzo di trasporto chiuso anche se fosse pubblico quindi pensate quanto tempo e passiamo all'interno appunto di ambienti che non sono outdoor quindi ambienti indoor la qualità di questi è significativa per quanto riguarda appunto diverse patologie che poi si vengono a scatenare nell'arco della vita di questo poi ne parleremo in altri video in altri appuntamenti che mi prefiggo di inserire nel nel mio canale vi vi dico che questo è il mio primo video in in assoluto quindi vi chiedo perdono se qualcosa non non andrà proprio per per il meglio o se notate un po di di impaccio andiamo avanti con la slide numero due quando parliamo di qualità dell'involucro il primo elemento che va valutato è l'aria la qualità dell'aria non è raro anzi è molto diffuso diffusa la possibilità di trovare una qualità dell'aria interna più inquinata pensate a quella esterna anche in luoghi che sono abbastanza inquinati pensate che appunto la percentuale è il numero di inquinanti all'interno di un'abitazione è superiore a quello del numero che possiamo trovare all'esterno quindi vedrete quanto è fondamentale il come costruiamo il come progettiamo e cosa mettiamo all'interno delle nostre abitazioni o del dei nostri luoghi di di lavoro passiamo alla slide successiva e parliamo di dell'obiettivo primario della della bio architettura lo scopo principale l'obiettivo da raggiungere diciamo che un progetto di bio architettura fra fa centro quando riesce a raggiungere il il benessere prefissato per benessere intendiamo sia il benessere dell'uomo sia il benessere dell'ambiente quando parliamo ovviamente del benessere dell'ambiente sappiamo già di cosa stiamo parlando quindi sostenibilità ambientale sostenibilità economica sfruttamento delle risorse che la natura ci offre in maniera tale da non inficiare sulle generazioni future e così via quando invece parliamo di benessere dell'uomo ovviamente pensiamo a chi andrà a vivere ad abitare in quel luogo o chi andrà a lavorare in in quell'ambiente indoor chi invece è stato all'altro lato del appunto appunto del del progetto quindi il progettista un vero progettista di bio architettura o un vero progetto di bio architettura si prefigge il benessere anche di chi opera nella costruzione di quel manufatto non c'è il progetto di architettura sostenibile o di bio architettura se non viene salvaguardata la salute di tutti gli operatori che vanno a mettere opera a mettere mano nella realizzazione del manufatto e di chi poi alla fine andrà a viverci dentro quindi all'utente finale passiamo alla slide successiva dove vedete una frase che è qualità della vita allora per me bio architettura è questo bio architettura è qualità della vita quando parlo di qualità della vita quando parliamo di qualità della vita io penso sempre a un approccio olistico alla salute perché noi quando pensiamo ad avere una vita di certo di una certa qualità pensiamo essenzialmente a due cose alla salute e al e al comfort quindi a vivere in ambienti più che più possibili confortevoli e che non diano problemi al nostro stato di salute avere un approccio olistico alla qualità della vita significa progettare concepire realizzare e riempire tra virgolette un ambiente indoor un'abitazione un ufficio una palestra uno studio professionale di elementi che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e che siano stati realizzati e fatti con materiali sostenibili dal punto di vista psicofisico e del della salute quando invece se dovessi spiegare un che cos'è un progetto di bio architettura per spiegarlo in maniera semplice un progetto di bio architettura è un tavolo con quattro gambe le cui gambe appunto sono la sostenibilità ambientale la sostenibilità economica il clima indoor e ultimo ma non ultimo la salute abbiamo accennato poco fa che per sostenibilità ambientale appunto intendiamo tutte quelle scelte quelle strategie sia dal punto di vista progettuale ma soprattutto nella scelta dei materiali che andremo ad usare che abbiano la possibilità di essere reperiti per quanto possibile per quanto il mercato ci possa offrire dalla natura evitando più che sia possibile di andare a mettere dentro una serie di elementi chimici che influiscano soprattutto torniamo a ripetere a inquinare l'aria indoor la sostenibilità ambientale non è più come dire un una scelta in più è una scelta necessaria le ultime gli ultimi dati sul appunto sul sull'effetto serra sull'inquinamento dei mari non sono più allarmanti ma come ben sapete sono drammatici non è più possibile continuare a produrre senza avere in mente cosa andiamo ad operare nel nell'ambiente circonda sul pianeta terra perché le generazioni futuro e future pagheranno ancora di più un prezzo abbastanza alto molto più alto di quello che già stiamo pagando noi sostenibilità economica un progetto tutti i progetti devono essere sostenibili dal punto di vista economico a maggior ragione un progetto che si prefigge il benessere quindi ogni ogni scelta ogni prodotto che andremo a realizzare ogni elemento che andremo ad introdurre deve essere sostenibile dal punto di vista economico e non parlo solo delle nostre tasche di chi andrà a spendere soldi ma parlo anche del del ciclo economico che si attiva nel momento in cui si inizia un cantiere quindi materiali possibilmente a chilometri zero quindi far viaggiare un un aereo per farci portare il bambù dall'australia non ha senso quando io mi come dire vado a proporre un progetto di bioarchitettura ad un mio cliente per quanto possa essere bello utile e ottimo il bambù il territorio che mi circonda mi offre altre possibilità che andrò a valutare e che andrò appunto ad usare nella realizzazione della casa del mio cliente il clima il clima ovviamente non è uno degli elementi principali di un progetto di bioarchitettura quindi efficientamento energetico non a tutti i costi però attenzione ormai questo ne parleremo un po più avanti nel video si pensa purtroppo che un un edificio e green e verde e bioecologico perché risparmia un sacco di soldi sulla bolletta della luce cosa buona e giusta ma non basta per essere un punto un punto un un edificio verde green poi la salute la appunto la salute deve essere sempre non solo salvaguardata ma possibilmente migliorata sia da chi dall'utente finale sia da chi opererà nel cantiere quindi se uso prodotti bio edili sicuramente l'operatore il muratore il decoratore che lavoreranno nel mio cantiere non avranno problemi dal punto di vista di esalazioni e di di cattiva qualità dell'aria e di elementi chimici dannosi appunto per per la salute dicevamo poc'anzi parlavo parlavamo di appunto edificio green attenti a al greenwashing che cos'è il greenwashing è una strategia commerciale ingannevole che ti fa vedere qualcosa che come dire si ammanta di appunto di ecologicità di biologicità ma in realtà così non è come vedete ho voluto mettere appunto in maniera voluta la scritta attenti a greenwashing su un un attestato energetico vedete la più ormai tutti quanti sappiamo che cos'è un attestato il famoso ape un attestato di prestazione energetica e quel tagliandino che vedete anche negli elettrodomestici che appunto ci dice in quale categoria si trova il mio manufatto il mio la mia lavatrice la mia lavastoviglie e quindi quanto questo mi darà la possibilità di risparmiare sul consumi energetici molte aziende molte ditte molti cantieri colorano di verde la loro pubblicità usano parole che in qualche modo ci indicano un benessere ambientale sostenibile ma in realtà non è così risparmio energetico è uno degli elementi della bio architettura ma non è l'unico elemento della bio architettura per fare un edificio in bioedilizia ho bisogno di altri elementi che si aggiungano a quello del risparmio energetico a quello dell'efficientamento energetico passiamo alla slide successiva e parliamo delle finalità di un di un vero progetto di bio architettura le finalità le ho volute racchiudere in in quattro sono molto di più ma il tempo sarebbe molto più lungo da dedicare a questo poi vedremo in qualche video successivo dunque le finalità di un vero progetto di bio architettura le ho racchiuse appunto in quattro punti miglioramento della salute garantire comfort psicofisico efficienza energetica appunto come dicevo poc'anzi e la salvaguardia dell'ambiente ognuna di queste quattro finalità deve essere raggiunta in maniera come dire totale se no abbiamo in qualche modo fallito gli obiettivi che ci siamo prefissati una casa un edificio bio edile deve migliorare lo stato della salute di chi andrà a viverci dentro deve essere confortevole deve essere caldo d'inverno e fresco d'estate mi deve dare la possibilità di avere colori adatti e giusti al bisogno e al modo e l'attività che svolgo all'interno degli ambienti indoor all'interno delle varie stanze quindi scelta di colori adatti scelta di elementi che mi diano la possibilità di sfruttare al massimo la luce esterna garantire il comfort psicofisico pensate che se noi trascorriamo la maggior parte della nostra esistenza in ambienti che non sono salubri dal punto di vista appunto ambientale ma che non mi diano neanche quella risposta che la mia psiche il mio spirito hanno bisogno quindi ambienti troppo piccoli oppure troppo grandi non disegnati progettati su misura per le mie esigenze ambienti come dire troppo cupi troppo tristi oppure colori troppo vivaci elementi che non siano naturali troppo artificiali a lungo andare influiscono in maniera proponderante sul mio stato psicofisico efficienza energetica ne abbiamo parlato già nelle slide precedenti quindi adottare delle strategie e delle scelte in maniera tale da sprecare meno che sia possibile da sfruttare più che sia possibile ciò che la natura mi offre per produrre energia in maniera tale da essere autosufficiente e perché no produrre energia per altri ultimo ma non ultimo salvaguardia dell'ambiente dal sito quindi dalla movimentazione terra dall'installazione del cantiere fino alla scelta delle maniglie delle porte che ho scelto per andare a chiudere le mie stanze ognuna di queste scelte strategie deve salvaguardare l'ambiente deve essere fatto in maniera tale da non influire sul sulla sostenibilità ambientale se vi è piaciuto questo argomento e vi è piaciuto il video appunto come ho detto prima iscrivetevi al canale metti un mi piace e potete anche andare a visitare il mio blog bioabitare.wordpress.com e con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione